Giornata nuvolosa ma molto pronta per la tappa finale del Torfio Invernale del Semino, organizzato dal C.U.S. che rende affluenza anche alla Lans per sostenere gli atleti della Repubblica. Parcheggio Vornito come al solito e come al solito Range Rover a parcheggio salvaglio. E lo vedi il Tonino là? E' la barca della giuria con il falso macrono che saluta. Oggi faccio parte della Gurria e del Comitato, bella regata lo stesso dai non ti preoccupare ma ti si è tagliato i baffi eh? Ciao eh! Siamo alla cronaca della regata, le barche sono in linea alla partenza. Si alza anche un bel vento su questo campionato invernale. Passa primo alla BOA, l'FD di Baruzzi Negro. Passa molto vicino al posaboe blu di blu, un marinello del 2016. E questo invece è Virielio con tutti gli amici dell'armatore che prendono il sole. Ecco un bellissimo ingaggio tra blu di blu e Virielio. Conte Enrico Pasquale con un esilarante quarto posto, lo skipper del Garda. Dopo tre giorni taglia il traguardo anche peppo sorriso facile. E si conclude anche questo invernale del 2016.